Che facciamo se tornano e ci trovano qui? Non torneranno. L'estate è finita. Neanche nei fini settimana. Possiamo restarci per sei mesi? Se non fai pasticci. Oh, nel frigo c'è tanta roba. È pieno il zeppo. Italiano, olandese, ma che roba è? È buono. Assaggia questo. È buono. Sei pazzo. Questo è disgustoso. Sì, ragazzi. Andateci piano. È forte. È forte. Grazie a tutti.